Sai cos'è il coronavirus? No. Tu hai appena fatto un film che si intitola La quinta stagione e che racconta Padova in lockdown. Perché proprio Padova e perché proprio durante il lockdown? In primis perché io sono di Padova e quindi mi trovavo a Padova. E poi ero sì angosciata ma anche un po' affascinata da questa situazione. Ed ero molto incuriosita da come poteva essere una Padova nuda, cioè spogliata dalle persone. La quinta stagione è una stagione che non esiste. In la tua mente che stagione è? La quinta stagione nella mia mente è la stagione del Covid-19 che ha sconvolto tutta l'umanità. La mia depressione sta aumentando, non posso andare a scuola, non posso vedere nessuno. Quanti giorni hai filmato Padova in silenzio? Beh, allora le riprese sono iniziate il 26 marzo 2020 e sono finite il 12 maggio 2021. Poi ho fatto più di 80 interviste. Soprattutto nel primo periodo eravamo così spaventati che ci volevamo tutti bene, in qualche modo. E quindi questa cosa mi ha molto colpito, il fatto che la gente avesse voglia di raccontare e di raccontarsi e di dire in qualche modo la sua. E anche, diciamo, non so, passeggi sull'argine, vedi le paperelle che non sono mai entrate nella strada. E quindi, come dire, la natura si era anche un po' rimpossessata degli spazi urbani. E la tua emozione più forte in quel periodo qual è stata? Un pomeriggio di una domenica ero di fronte al Pedrocchi. Non c'era nessuno, passava un signore anziano. Io sentivo rimbombare i suoi passi sul Selciato e mi sembrava di essere in un quadro di De Chirico. Grazie Isabella, la quinta stagione del tuo film. Buongiorno mattino. Buongiorno mattino.